numero 5 questo è un kit completo che vi offrirà 7 diverse paia di ciglia finte magnetiche compreso l'eyeliner magnetico e una clip per ciglia per una facile applicazione l'eyeliner a particelle magnetiche ultra fini e non ha ingredienti irritanti quindi non danneggia la tua pelle o le ciglia può essere applicato e incollato molto facilmente sono fatte di fibra di 0,07 mm con un design che le rende molto simili alle ciglia naturali sono molto leggere e comode da indossare il loro eyeliner è completamente impermeabile e resiste perfettamente al sudore puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 4 si tratta di ciglia finte di livello professionale che sono ideali per abbellire gli occhi e ottenere un effetto sorprendente sugli occhi sono fatte a mano ecologiche possono essere sovrapposte alle ciglia naturali per una finitura più armoniosa sono disponibili in 7 paia con stili diversi in modo da poter soddisfare le tue esigenze quotidiane e sono perfette per qualsiasi occasione speciale trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 sono ciglia di alta qualità fatte di un materiale di fibra sottile per un effetto più naturale si fondono perfettamente con le tue ciglia naturali per aggiungere lunghezza e volume per un look molto più sorprendente non sono irritanti e sono comode da indossare soprattutto perché sono dotate di una fascia di cotone che le rende facili da applicare e rimuovere riceverai un totale di 10 paia di ciglia senza colla trovi il link di questo articolo in descrizione numero 2 queste ciglia sono realizzate a mano e sono fatte di fibre sintetiche di altissima qualità che le rendono resistenti e leggere hanno una banda invisibile molto morbida e 3d che non lascia traccia e permette di avere un trucco molto naturale l'ombretto o il mascara possono essere applicati mentre le si indossa senza problemi possono essere lavate e riutilizzate in totale fino a 50 volte per coppia queste ciglia possono essere tagliate e adattate alle vostre esigenze in modo davvero semplice e veloce la colla va comprata separatamente trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 si tratta di ciglia ultraleggere che sono fatte di fibre sintetiche ultraleggere sono completamente riutilizzabili e non perdono la loro forma hanno semplicemente bisogno di essere pulite rimuovendo la colla dopo ogni uso possono essere utilizzate fino a 8 volte sono molto comode e avrete un totale di 4 paia diverse da scegliere in base alle vostre esigenze sono ciglia di altissima qualità che vi permetteranno di avere sempre uno sguardo molto più appariscente e attraente non includono la colla che andrà acquistata separatamente in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto